RENK VALDER Sign the change Ma ci siamo noi Un piccolo gruppo di combattenti Ma uniti dal coraggio e dalla voglia di vincere Dalla voglia di vincere una causa Che la giustizia stessa si ha detto di vincere Perché noi difendiamo la nostra terra Le nostre famiglie Il nemico non passerà E non importa se è più numeroso Perché noi siamo... Ma sei abelinato? Ci vuoi far perdere la partita? Ma... Lo showroom è aperto a tutti per la vendita di piastrelle Sanitario Rubinetteria E accessori da La nostra professionalità ed esperienza Sono a vostra disposizione Per risolvere ogni vostra esigenza Veniteci a trovare nel nostro showroom Di via Rivarolo 19 Rosso A Genova Rivarolo Qualità e professionalità Sono alla base di Pneus Discount Che vi propone un'ampia gamma di pneumatici Ad alte prestazioni Il nostro slogan? Tutto è alla portata di tutti Neus Discount Via Castelmorrone 15 di Genova Questa notte in casa Con il mio PC Me ne andrò su internet A parlare in chat Attenti alle mogli Che entrano di scatto Mi beccano sudati Con la bacchia in tiro Benvenuti alla settima puntata di Chattiamo Signore e signori Ci risiamo Dove siamo? A Chattiamo Ecco vedi Non fa una piega no? Settima puntata E ancora una E poi finalmente Mi libererò di te Eh vabbè Come se non fosse sempre così Siamo sempre così Ogni fine puntata Si libera di me Quindi Mi sembra anche più che giusto Ma vediamo subito Il giro di carte Il giro di carte Vediamolo Vediamolo seguire Vabbè dai Sono simpatici Giovani Carini Molto carini Disoccupati Come dicevo qui No Speriamo di no Disoccupati Speriamo di no Ma magari chissà Dopo Chattiamo Trovano lavoro Ma non devono trovare l'amore Eh se non lo troveranno l'amore Troveranno lavoro Che cosa? Gli dirai Se non funziona uno Funzionerà l'altro Forza Va bene Andiamo avanti Ricordiamo il nostro sito Che è www.chat-tiamo.com Dove lì troverete Tutti i nostri spostamenti Ma ormai spostamenti Ce ne sono ben pochi Perché manca ancora una puntata Allora Vogliamo ascoltare un po' i ragazzi Cosa hanno da raccontarci Attraverso la presentazione Ascoltiamoli 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 Ciao Mi chiamo Sabrina E ho 20 anni Sono iscritta Alla facoltà di Genova Di lettere Perché il mio sogno È diventare una giornalista O una reggista cinematografica E mi sono iscritta Alla facoltà al programma Ho comunque fatto il provino Per cercare di diventare Più sicura di me stessa E per conoscere Sono un ragazzo possibilmente Dolce e simpatico E il mio asso nella manica È quello di presentarmi In un modo un po' particolare Mentre il mio desiderio nascosto Da parte del ragazzo È quello che reciti una scena per me Ciao sono Demis Ho 23 anni E nella vita Lavoro alle saote E faccio le coreografie La mia donna ideale Deve avere Cappelli mori Deve essere mora E avere gli occhi verdi E partecipo a questo programma Perché mi ha incastrato Il gestore del locale Cuzzara Il mio asso nella manica È preparare un cocktail per lei Come desiderio nascosto Mi dovrà dire Le 5 cose da non fare Se vuole conquistare un ragazzo E in questo caso me Scusa Desi Mi spieghi un attimo La presenza di questi prodotti Perché capisco che Saranno finite le puntate Insomma siamo alla settima All'ottava Vuoi cambiare il lavoro? Facciamo Apriamo un'enoteca E un frantoio No 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 Simone Questo è un momento molto importante Ci tengo Guarda un po' come ho realizzato tutto Sono dei prodotti di MyBan Che è un'azienda Con sede a Genova Specializzata proprio nella vendita Al dettaglio E all'ingrosso di privati Ristoranti Bar Qui abbiamo olio extravergine d'oliva Vino Mante Eccetera eccetera Poi fa anche altre cose Fa tantissime cose Compresi dei gadget Magliette Borsette Cappellini Insomma Qualsiasi cosa Che un'azienda possa richiedere Tra l'altro Voglio anche precisare una cosa I prodotti Sono di ottima qualità Realizzati con materie prime Provenienti esclusivamente Dalla Liguria E sono vendute ad un prezzo assolutamente concorrenziale Allora sai cosa faccio mentre andrai in onda al servizio? Ti faccio un bel bicchiere di vino E un bel crostino con un po' d'olio Un po' di sale E via Chef! Anche io lo voglio però Vediamo se te lo meriti E nel frattempo intanto vediamo cosa vi sono raccontati i ragazzi E mangiamo un po' Ciao Ciao Io mi chiamo Sabrina Tu? Io Demis Cosa fai di bello? In generale sto studiando lettere Adesso sono agitata perché sto ciottando con te davanti alle videocamere Anch'io sono un po' agitato Scusa la domanda Ma da quant'è che non sei fidanzata? Boh Preferirei non parlarne Perché me lo chiedi? Ah Semplice curiosità Non volevo sapere così Magari se potevo avere qualche possibilità Un mese più o meno Quasi due E tu invece da quant'è che non sei fidanzato? Mai stato Mi sembra un po' impossibile che non sei mai stato fidanzato Cerchi solo cose leggele oppure per altri motivi No non è mai capitato l'amore della mia vita Magari potresti essere te Chissà Vedremo un passo per volta Simo Buono il video di Marbe Buono Sappiamo che esagerava Buono Tranquillo Tutto è passato Tutto è passato Intanto guardiamo un po' che particolari si sono mandati i ragazzi Simo Eccomi Passa anche velocissima la botta col vino di Mai Ben Sì 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 la botta te la do io se non ti metti un po' in sesto Allora ascolta Entriamo in contatto con i ragazzi Ma non l'hai già fatto? No eh no hai perso qualche pezzo E vediamo un attimino che cosa ci dicono Anche perché si sono visti i particolari Dai entriamo in contatto con Dennis Contattiamoci Ciao Demis Ascolta allora io voglio sapere insomma cosa ne pensi di questa ragazza che poi mi sembra talmente così Come posso dire timidina però insomma cosa ne pensi? Ciao ragazzi ho visto le foto di Sabrina Beh dai jeans chissà cosa si potrebbe nascondere lì sotto non lo so Però comunque dalla bocca e dalle mani mi sembrava abbastanza intrigante E tu Sabrina cosa ne pensi? Ciao Simo ciao Desi Ho visto le foto di Demis Ho visto che ha i capelli rossi e non me li aspettavo assolutamente E non ho mai conosciuto un ragazzo vabbè con queste caratteristiche fisiche E adesso è arrivato il momento tanto atteso No? Non ti piace? Va bene Volevo un po' Volevo diventare un po' Simone E tu magari diventavi un po' Desi Vabbè lasciamo stare Ok le iniziative non ti piacciono Demis Fatidica domanda Vuoi incontrare Sabrina? Si direi di si mi incuriosisce E tu Sabrina vuoi incontrare Demis? Si sono curiosa direi che vorrei conoscerlo di persona Ottimo Ha detto di si Perché è rimasto ancora un po' di filo in corpo che non... Non lo so aspetta che quasi faccio l'altro Ma provo spavente? Bene ha detto di si Un costino Ha detto di si Quindi cosa dobbiamo fare? Andare Andare a prendere i ragazzi E portarli questa volta Al cuzzare In piazza Dante Sei rosso Figo dove si sparano? Dove si sparano? Si Sarà la volta buona che ti faccio fuori Magari è la mia volta buona Siamo al cuzzare E come al solito Indovinate Simone sempre in ritardo E come al solito Sube in los bras Agora al cielo Lleva il ritmo Con las calmas Bailando Juntos Iniziamo con le prove finalmente E partiamo con l'asso nella manica di Demis Che sarà quello di fare un buonissimo cocktail per Sabrina Vediamo Grazie a tutti L'asso nella manica di Sabrina E quella di presentarsi In un determinato modo Che sceglierà lei Dice in modo giornalistico Perché lei ricordiamo Come ha detto già nella sua presentazione Ha studiato Per diventare giornalista Quindi Chissà come sarà Non sono molto curiosa E ora dopo lo sport Passiamo alla pagina dello spettacolo C'è giunta notizia da Chattiamo News Che Sabina Costo parteciperà Alla settima puntata di Chattiamo Per oggi è tutto Passiamo alla linea La regia Il desiderio nascosto di Demis È quello di sapere da lei Le cinque cose che una donna Non deve mai dire Ad un uomo Per conquistarlo Voglio sapere le mie? Ad esempio La domenica C'è lo stadio La partita Poi c'è la playstation Poi c'è la... A noi è già abbastanza Il tuo elenco Invece ascoltiamo L'elenco di Sabrina E vediamo cosa dice Cercare di controllarlo Tentare di cambiarlo Entrare in confidenza con lui Troppo presto E essere assillante con lui E infine direi Parlare del futuro Simo ma perché sei girato? Ma come stai? Ma è bene Tigre Cucinella Si vede subito la differenza Va bene Nel frattempo Vediamo un attimo Il desiderio nascosto di Sabrina Che è quello Di farsi recitare Da sua lui Una scena di un film Una frase Ma Vediamo stantore Dovete riportarmi a terra Secondo il codice dell'ordine Della fortellanza Riportarvi a terra Non faceva parte del negoziato Né del nostro patto Non devo far nulla E secondo Dovete essere un pirata Finché il codice valga E non lo siete E terzo Il codice è più che altro Una sorta di braccia Che è un vero regolamento Benvenuta a bordo Della perla nera Mistar Andiamo Primo Riportarvi a terra Non faceva parte del nostro patto Nel nostro negoziato Quindi non devo fare nulla E secondo Dovete essere un pirata Finché il codice valga E voi non lo siete E terzo Il codice è più che altro Una sorta di traccia Che è un vero regolamento Benvenuta sulla perla nera Mistar È dal 1854 Che il mobilificio Caselli Si pone un solo grande obiettivo La soddisfazione del cliente Non vogliamo basarci solo Su un prezzo vincente Ma anche sulla qualità del prodotto E sul montaggio accurato Vieni a visitarci E sarà il benvenuto E ricordati di dire Che ci hai visto Nel programma Chattiamo Così ti sarà praticato Uno sconto extra Del 10% Vai da Spaviero Spaviero Gli occhiali che vuoi Il prezzo è quello giusto E sei un fusto Se fai le leti da noi Vai da Spaviero Spaviero Gli occhiali che vuoi Se il corso è sempre aperto In San Lorenzo Migliore scelta Non puoi Questa mattina Mi servivano un paio di occhiali Mi volevo fighi di marca Ed economici magari Qualcuno mi ha detto Sei reietto Perché non puoi avere tutto Ma gli ho risposto Cambia posto C'è qualcosa che tu non conosci Spaviero Spaviero Gli occhiali che vuoi Il prezzo è quello giusto E sei un fusto Se fai le leti da noi Vai da Spaviero Spaviero La tua dimensione La puoi trovare qui La dimensione donna Un salone giovane e dinamico La nostra filosofia È da sempre Soddisfare il cliente Esaudendo al meglio Ogni tipo di richiesta Specializzato nella cura E nel trattamento personalizzato Dei vostri capelli Dal 20 novembre a gennaio Una grande promozione Su taglio, piega e colore Vi aspetta Mi raccomando Dimensione donna Via Napoli Al 127 Rosso Genova E adesso Lasciamoli soli soletti Per fare quattro chiacchiere Ma solo quattro Perché poi dovremmo sapere il risultato Soli soletti Giusto Desi? Soli Soletti Will be there to take my place If I could If I could Then I would I'll go wherever you will go We apply or download I'll go wherever you will go And maybe I'll find out A way to make a way to make it back someday If I could If I could If I could If I could Then I would I'll go wherever you will go I'll go wherever you will go Run away with my heart Run away with my heart Run away with my heart Siamo alla fine Avete parlato direi abbastanza Avete anche giocato Anche giocato sì E invece noi siamo arrivati con le nostre carte rosse Guarda in pendant Oh voilà Darò due carte a te e due carte alla signora Quindi mi raccomando fate la scelta migliore E questa volta non ho nessuna palida idea When the world seems to shine Like you've had too much wine That's amore Bells will ring Ting-a-ling-a-ling Ting-a-ling-a-ling And you'll sing Vita bella Hearts will play Tippy-tippy-tay Tippy-tippy-tay Like a guitar andella When the stars make you drool Just like a buster fuzzle Sì ma io questa volta ho paura Ho troppa paura Ma cosa vuoi che succeda dai E se non capisco È una coppia un po' particolare però Ma io invece sono fiducioso Vediamo 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 A voi la scelta Ai 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 Due di picche da entrambi Bene fiducioso era la parola esatta Due due di picche secchi così Bravo bravo È la prima volta che succede? Sì è la prima volta dopo Sei puntata E la settima doveva capitare Prima o poi Ne manca ancora una C'è sempre una prima volta Ma io vorrei sapere da Sabrina Perché questa decisione È un ragazzo simpaticissimo Però a pelle non è il mio tipo Né come carattere Né fisicamente E tu scusa Due di picche? Ma come stai? Due di picche? Ma l'hai vista? Due di picche? Ma l'ha vista? No mi sa di no Guarda È troppo timida La vorrei più grintosa Perché ci sono già io timido Allora indipendentemente Comunque dalla scelta Anche negativa Ma a voi comunque i premi Vanno lo stesso Quindi Il solito cappellino Cappellino della Trent Valdare Per chi vuole cercare lavoro Ecco una tette E le bellissime magliette Di Chattiamo Offerte da Panta Bazar In via 17 Rosso Via Bozzano Giusto? 17 Rosso a Genova Eccole qua Meravigliose Come al solito Che noi Affidiamo ai nostri concorrenti Che dovranno Voila Voila Che dovranno Indossarne Adesso Ma veloci 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 Uno due tre Veloci Io mi mangio una patatina Guarda Ciao a tutti Ciao eh Buono Desi Io per te Conquisterò nuovi mondi Sfiderò intere legioni di alieni Combatterò contro tutti i soldati del mondo Io 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 E ora dimostramelo Io Scappo Ciao eh Ciao Ciao E intanto Chattiamo E viva la Chak E viva la Chak Divento un po' ma Se non vado in Chak Ciao sono Simone Sto cercando la mia anima gemella Una ragazza di buona famiglia Che so Una figlia di un pasticcere Così almeno ne trovo una con due bollette Un bambolone così Ciao Fede Eh ciao Gio Eh scusami lo so sono in ritardo Però non riuscivo a decidere cosa mettermi Cerca che ti ricerca Alla fine Avrei scelto questa magliettina Che la dici? Eh carina Però ecco È bellissima ero Sì è un po' rosa Ecco un po' rosa Sì è della mai bella È bella no bella Però ecco un po' sportiva Hai visto la cucinella? No bella Beh c'è la Liguria Però è un po' sportiva Mi sembra un po' sportiva Poi è un po' chiara Ma il colletto Guarda Senza maniche È tutta chiara Poi sei così chiara Tu Di l'indale tuo Voglio dire Gli occhi chiari I capelli Maglietta chiara È un po' Non so Non so Non ti piace? Non so L'ho scelta con tanto entusiasmo Ma sì però Un po' Chiara Capito Mi vado a cambiare Vabbè mi aspetti qua? Ci vediamo L'acqua E' tutta l'acqua A dopo Ciao Bravo Vatti a cambiare Così la maglietta di MyB Me la tengo solo io Laser Seramenti Vanta diversi anni di esperienza Nel settore della produzione Ed installazione di finestre Persiane, Zanzariere, Porte e Blindate Macchinari all'avanguardia Attrezzature, mezzi e spazi idonei Fanno di Laser Seramenti Un'azienda capace di svolgere Qualsiasi lavoro a regola d'arte Vi aspettiamo nel nostro showroom In via Borzoli 39-124Z Genova Continvate Gli A Gli A Nel cuore di Genova, Oltremodo, un luogo perfetto per un aperitivo, un dopo cena o un evento importante da festeggiare con colleghi ed amici. Il locale è adatto ad organizzare cerimonie, parti privati ed eventi aziendali. Oltremodo, all'Expo sulla Navitalia vi aspetta. I tuoi rapporti di lavoro dove vuoi, quando vuoi e con la massima sicurezza. Rankvalder Servizi Online. Sign the change.